I've got a birthday card for my neighbor and I wanted to send it from Rome while we're here on holiday. Do you like Italy? Oh, it's fabulous. Siamo a Biarenula, pieno centro storico della capitale, a pochi passi dal Ministero della Giustizia e da largo di Torre Argentina. Qui ogni giorno passano migliaia di turisti e molti di loro si fermano anche all'ufficio postale multietnico della zona. Entriamo a scoprire perché. La fluenza è molto elevata, abbiamo tantissimi turisti e clienti stranieri residenti qui nella zona, sia per motivi di studio che di lavoro. Tutto l'ufficio parla l'inglese e abbiamo un operatore di sportello specializzato nella lingua spagnola. Per me questo lavoro è molto gratificante perché mi porta a conoscere persone di diverse lingue, diverse culture, provenienti da tutto il mondo. Ed è bello poter mettere in pratica e migliorare sempre le mie competenze linguistiche. Un giorno mi è capitata una storia riguardante un giovane francofono proveniente dal Senegal, che era appena arrivato in Italia in cerca di migliori opportunità, però si era dovuto scontrare con numerose barriere, sia linguistiche che burocratiche. E quindi io ho parlato nella sua lingua madre e l'ho aiutato a compilare i moduli che servivano per inviare la richiesta per il permesso di soggiorno necessario per trovare un lavoro in Italia. E qualche mese dopo lui tornò in ufficio ringraziandomi e dicendomi che finalmente aveva trovato lavoro qui in Italia e aveva realizzato il suo sogno. Siamo da Essex, proprio da Londra, nel Reino Unico. Qualche operazioni hai fatto? Siamo arrivati a mandare i posti a nostra famiglia oggi. I sent postcards to the United States, to my friends. Would you like to send this postcard with us? Yes, yes. I'm sending my postcards to Florida. Yeah.